Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video dove oggi voglio parlarvi del modem fibra infostrada Il modello in questione è uno Zixel VMG513-B10B E' un modem di cui non ho trovato documentazione, ho provato a cercarlo ovunque per capire quale modem avessero provveduto a spedirmi Per utilizzare il servizio FTTC Infostrada con la connessione a 50 mega download e 10 in upload E quindi adesso provvedo a farvi vedere in questo video il modem in questione Allora avete sicuramente già visto nelle immagini che il modem è nero, piccolino, con una estetica semplice Con delle porte USB, anzi una sola porta USB sul lato 3.0 per la connessione di hard disk o stampanti di reti o qualunque cosa Poi abbiamo il tasto WPS per connetterci al wifi con i dispositivi senza inserire la password manualmente E poi abbiamo il pulsantino per spegnere il wifi Abbiamo il pulsante ovviamente per spegnere il modem sul retro E sempre sul retro abbiamo 4 porte WAN quindi per collegare tramite cavo LAN i vari dispositivi come computer o televisioni Poi abbiamo due ingressi per il telefono poiché con la fibra FTTC il telefono passerà in modalità diciamo voip Quindi andrà collegato direttamente al modem E niente adesso vi faccio vedere un po' il pannellino del modem che sinceramente pensavo fosse dell'utente Invece mi ha sorpreso poiché è molto configurabile Come vedete qua io già ho messo delle impostazioni Per esempio mi sono salvato i dispositivi connessi diciamo quasi sempre in modo da sapere quali sono Qua su stato connessione abbiamo appunto la mappa di rete che avete visto prima Poi su impostazioni avanzate guardate abbiamo lì la connettività WAN dove possiamo aggiungere delle interfacce Come per esempio praticamente dei profili già preimpostati In questo caso abbiamo la DSL classica, la VDSL quindi la fibra, la DSL con il VoIP Quindi dei profili che poi possiamo anche andare a modificare Vedete per esempio chi ci dice che dobbiamo andare con IP soltanto tramite i classi PV4 Poi il VPI, il VCI, queste cose sono diciamo preimpostate per funzionare direttamente con l'infostrada Quindi credo che questo modem possa anche funzionare con altre linee diverse da quell'infostrada Qui abbiamo le impostazioni del wireless Purtroppo l'unica pecca di questo modem è che ha il wireless soltanto a 2,4 GHz con velocità massima di 300 Mbps Quindi adesso che dovrò vedere se utilizzare un altro access point per avere il wifi più veloce Poi qui abbiamo reti domestiche dove possiamo andare ad impostare la classe di IP La maschera di sottorete, il range degli IP Possiamo andare a impostare il DHCP, server DNS personalizzabili Il PV6 pronto, non lo utilizzo perché quando lo vado a impostare si alza il ping con la maggior parte delle connessioni italiane Qui abbiamo DNS sempre, possiamo proprio cambiare l'algoritmo di routing Insomma, queste sono tutte le funzioni avanzate Però volevo farvi vedere, ad esempio c'è il firewall, il filtro MAC Per impostare proprio fisicamente quali dispositivi possono collegarsi Controllo per i bambini, quindi per bloccare siti poco adatti ai minori Qui abbiamo la sezione VoIP dove possiamo impostare il VoIP Monitor di sistema che ci fa vedere tutte le statistiche Manutenzione per cambiare la password, fare un backup delle impostazioni E riprisinare, riavviare il modem, aggiornamento delle impostazioni Ragazzi, ci sono tantissime cose su questo modem Sinceramente pensavo fosse una schifezza Invece funziona davvero bene Se questo video vi è interessato, penso di sì Se stavate cercando informazioni sul modem, fibra, infostrada Fatemelo sapere con un commento e con un like Ci vediamo al prossimo video, ciao!